Le nuove anticipazioni di settembre si concentrano sul risveglio di Emir dopo l'intervento chirurgico, momento in cui scopre di non avere più sensibilità in una gamba e crolla, impotente. Niyan decide di rivelare a Kemal che è incinta, mentre lui viene trasferito in una cella di isolamento, diventando il bersaglio delle guardie carcerarie. Nonostante le difficoltà, Emir sopravvive all'operazione e, al suo risveglio, pronuncia subito il nome di Kemal. Al suo fianco, Galip lo rassicura, informandolo che Sidere ha pagato le sue colpe ed è finito in prigione, ma lo avverte che hanno perso Ozan e H. Emir, preoccupato, chiede subito notizie di sua moglie, temendo che possa scappare ora che è libera. Vuole lasciare immediatamente l'ospedale, ma le sue condizioni fisiche e il dolore lo frenano. Nel frattempo, Niyan ed Efsan accompagnano Vildan fuori dall'ospedale, dove trovano Leila ad aspettarle. Leila accoglie Vildan con parole confortanti, dicendole che è venuta a portarla a casa, dove ha preparato la sua stanza preferita con lenzuola di raso e ha pulito tutto con acqua di lavanda. Leila le assicura che, finché vivrà, non sarà mai sola. Vildan, sopraffatta dall'emozione, scoppia in lacrime, abbraccia sua sorella e le confida che né Onder né Ozan sono più tra loro. Mentre si trova sotto la doccia, Kemal subisce un'aggressione da parte di un altro detenuto armato di coltello. Grazie alla sua prontezza, riesce a difendersi spruzzando acqua calda negli occhi dell'assalitore. Anche se scappa il leso, le guardie intervengono e lo considerano comunque responsabile dell'accaduto, confinandolo in una cella di isolamento per aver già creato problemi. Zeynep, nel frattempo, si risveglia in ospedale e, in preda alla confusione, chiede all'infermiera cosa sia successo. Una dottoressa entra e, senza spiegare chiaramente la situazione, le F.A. capire che, dopo lo svenimento, ha perso il bambino. Tuttavia, la rassicura dicendole che è giovane e avrà altre opportunità per avere figli. Zeynep, sconvolta, inizia a urlare e la dottoressa ordina all'infermiera di somministrarle un calmante. Nel frattempo, Leila accompagna Nihan e Vildan verso casa. Durante il viaggio, il telefono di Nihan squilla. È una chiamata da Galip e Nihan risponde. Dall'altra parte del filo, però, c'è Emir che le comunica di aver superato la morte e che niente potrà più fermarlo. Emir la esorta a prendersi cura di se stessa e del bambino che porta in grembo, insinuando di conoscere il suo segreto. Quando Emir le chiede dove si trova, Nihan non risponde. Emir, prima di chiudere la chiamata, le ricorda che, dopo la morte di Ozan e Aka, le loro vite sono ancora più intrecciate. Successivamente, Emir riceve la visita di Tufan in ospedale. Tufan chiede notizie di sua madre, ma Emir lo invita a verificare da solo. Tufan, preoccupato, corre via. Intanto, Kemal deve affrontare lo shock psicologico di essere rinchiuso in una cella angusta e inumana. Si rende conto che le guardie agiscono su ordini esterni. Tornata a casa di Leila, Nihan è molto angosciata e, dopo la telefonata con Emir, cerca di convincere sua madre a lasciare la Turchia per iniziare una nuova vita altrove. Tuttavia, Vildan fatica a separarsi dal luogo dove riposano Onder e Ozan. In ospedale, Emir viene visitato da un medico che esamina la gamba insensibile. Il dottore Galey spiega che il proiettile ha danneggiato la colonna vertebrale, compromettendo la sua capacità motoria. La disperazione sopraffa Emir, che tenta di alzarsi dal letto, ma cade a terra impotente. Galip e il medico cercano di calmarlo, dicendogli che potrebbe essere solo una condizione temporanea. Il medico aggiunge che il proiettile è stato lasciato volutamente dentro di lui su decisione di Galip durante l'operazione. Disperato, Emir si scaglia contro suo padre, dichiarando di non poter vivere con una parte di Kemal dentro di sé. Nel frattempo, Tufan si reca a casa di sua madre e, non trovandola, teme di averla persa per sempre. Tuttavia, la madre, liberata dagli uomini di Emir, lo consola. Contemporaneamente, Zeynep viene interrogata da Akan, che sta indagando su Emir e Ozan. L'uomo le pone una serie di domande per scoprire cosa possa aver spinto Ozan a fare quel gesto estremo, insinuando che Zeynep sia coinvolta. Lei nega fermamente e rimprovera l'investigatore per le sue accuse. Akan insiste, sottolineando che Zeynep aveva una somma considerevole di denaro nella borsa e si trovava al terminal degli autobus, insinuando che stesse tentando di fuggire. Scossa, Zeynep non risponde. Poco dopo, arrivano i suoi genitori con Asu e Tariq, che le chiedono cosa sia successo. Zeynep non rivela a nessuno di aver perso il bambino e si limita a dire che è in ospedale. Chiede poi di Kemal e Fehime le suggerisce di chiamare sua suocera. Quando sente la voce della nuora, Vildan le chiede di raggiungerla a casa di Leila, perché hanno questioni importanti da discutere. Una volta arrivata, Vildan le dice di prendersi cura di suo nipote, l'unico ricordo che le rimane di Ozan. Nihan, decisa a lasciare il paese, contatta Zeynep per chiedergli aiuto a incontrare Kemal, che sta subendo il peso del tempo trascorso in prigione. Zeynep accetta e si dirige verso il carcere. Tuttavia, all'arrivo incontra Asu, che aveva già cercato in vano di visitare Kemal. Poco dopo, Nihan arriva in prigione e parla con il direttore, convincendolo a permettere un incontro non ufficiale con Kemal, sostenendo che è necessario per rafforzare la posizione di suo marito. Nihan Fa leva sul fatto che il direttore lavori per Emir e che il nome Kosquoglu sia influente anche lì. Nel frattempo, Kemal è infastidito dai raggi di sole che entrano dalla piccola finestra della sua cella, evocando ricordi dei momenti felici trascorsi con Nihan. Per evitare la luce, copre la finestra con un cappotto, ma una guardia entra nella cella per rimuoverlo. Ne segue un conflitto e altre due guardie arrivano per pestare Kemal con pugni e bastoni. Il pestaggio viene interrotto da un'altra guardia, che annuncia che Kemal è stato convocato per un colloquio con Nihan. Nel frattempo, Nihan attende nell'ufficio del direttore, immaginando il loro incontro e la reazione di Kemal quando Ghali rivelerà che avranno una bambina. Tuttavia, i suoi pensieri vengono bruscamente interrotti quando il direttore le comunica che Kemal non vuole vederla. Delusa e arrabbiata, Nihan esce dal carcere, pensando che forse Kemal non merita di conoscere la verità. Fuori, viene assalita dai giornalisti, informati da Asu, che le chiedono se sia incinta di Emir. Inizialmente sconvolta, Nihan capisce che potrebbe sfruttare la situazione e conferma la gravidanza con Emir. Così si conclude l'episodio di giovedì, lasciandoci con molte domande e curiosità. Ma non perdetevi i prossimi video, perché nell'episodio di venerdì ci sarà un colpo di scena davvero emozionante. La storia farà un salto temporale di un anno, catapultandoci in una nuova fase della vita dei protagonisti. Kemal, dopo aver trascorso un anno in prigione, sarà finalmente pronto a uscire e a mettere in atto la sua attesa vendetta. Quali saranno le sue mosse? Chi ne pagherà le conseguenze? Gli eventi prenderanno una piega imprevedibile e ogni personaggio si troverà a fare i conti con le sue scelte passate. Preparatevi a un episodio ricco di tensione!